Per fare la spesa quotidiana Penso che ci sarebbe da sistemare un po' le strade E manca un supermercato per le signore anziane Che devono andare in altri paesi a fare la spesa Quando magari non hanno la possibilità Manutenzione nel parco del castello Il decoro urbano è un supermercato Dalla piazza di Zorlesco Queste sono solo alcune delle richieste dei cittadini In vista della prossima consultazione elettorale Attesa per fine maggio